Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul Bifrost, io sono G e sono qui oggi per fare la recensione di un film recentemente uscito su Netflix e sì, stavolta lo devo specificare perché se no mi andate a pensare che venga da qualche sito malandrino, visto il titolo incredibilmente fantasioso. Stiamo parlando del film Il Buco, sì lo so, ragazzi ci han dato sto titolo, poi ne discutiamo. Comunque prima di tutto, sigla! Vi devo chiedere scusa perché sono stata un po' assente, sì lo so un po' è colpa mia, un po' è colpa del no internet, perché ragazzi non stava andando internet né upload né niente, quindi ho dovuto prendermi una pausa forzata. Non so attualmente quando riuscirò a caricare questo video, io intanto lo giro poi quando posso lo carico, quindi non abbandonate il canale perché io non lo farò, ci rivedremo presto, il prima possibile, scroccherò, non so, la linea ai vicini, non so, qualcosa riuscirò a fare. Vi ricordo che le mie recensioni, come da tradizione, sono no spoiler nella prima parte, trovate il minutaggio nel titolo da cui iniziano gli spoiler, per ora può rimanere chiunque e dopo rimarranno soli coraggiosi. Ma parliamo di questo film, Il Buco, sottotitolo perché chiamarlo La Fossa pareva brutto. Io non lo so, lo chiamano sempre La Fossa, l'elemento principe del film è appunto una fossa, volerlo chiamare Buco non lo so, forse dà l'idea di più cose macabre, ambiguità, non lo so. Però ragazzi alla fine è La Fossa oppure Centro Verticale di Autogestione. Questi sono i nomi che vengono adatti fondamentalmente a un'apertura centrale all'interno di un edificio. E adesso ne parliamo così, buttiamo la trama all'inizio, quindi i primi elementi, e poi ci concentriamo sulle questioni proprio sociali e su quello che evoca il film. Siamo all'interno di un esperimento, esperimento di autogestione, dove praticamente ci sono delle persone che a coppie vengono inserite all'interno di un piano, detto livello. Non si sa quanti livelli ci siano all'interno di questo super edificio, che ha appunto una fossa centrale, quindi il piano dovete pensarlo come le monete cinesi che hanno il buco. E le persone vedono quelli che sono sotto e quelli che sono sopra. Ricordatevi questa cosa perché poi ne parleremo. Le scene di sopravvivenza vengono intervallate proprio dall'aspetto culinario, da queste scene bellissime di cibo che, madonna in questo periodo, all'interno di questa cavità viene proprio calata una pietra che ha la precisa forma di questa cavità che la oscura solo momentaneamente, quindi si potrà sempre vedere sopra e sotto tranne al momento del pasto, perché appunto questa bottola viene richiusa solo nel momento in cui scende questa tavola e chiaramente più sei in un piano alto, più è facile che il cibo ti arrivi decente. Decente perché? Decente perché appunto ci sono meno persone, meno coppie di persone che sono arrivate al cibo, quindi a livello igienico, ma anche che ti rimanga il cibo, perché più va in basso, meno cibo arriva. Addirittura in alcuni cibi, in alcuni cibi, in alcuni piani non arrivano neanche le ossa. Un esperimento abbastanza grottesco, abbastanza crudele, ma il protagonista, Goreg, qualcosa del genere, insomma hanno nomi un po' particolari, viene messo all'interno di questo esperimento senza davvero sapere le regole, perché lui pensava di andare qui, indovinate, indovinate, per smettere di fumare e leggere il Don Quixote. Roba che avrei potuto farla anch'io, ma magari avrei cercato di capire un attimo meglio il contesto. Infatti lui, bello sciallo, entra all'interno di questo esperimento, perché gli daranno dopo 8 mesi, un anno circa, un bellissimo attestato, fatto sta che bisogna vedere se ci arriva all'anno. Svegliatosi all'interno di questo luogo, Trimagasi è il suo compagno a distanza, che gli spiegherà diverse cose, sia le regole, tra l'altro troviamo all'interno dei primissimi dialoghi di questo film, che comunque dura anche poco, se non sbaglio, meno di due ore forse. In ogni caso, all'interno dei primissimi dialoghi, c'è un doubt death, già subito. Vediamo che c'è già merce di scambio, anche solo a livello di informazioni. Ovvero, sì, ti do un po' di informazioni, però io smetto di risponderti, perché non sarebbe giusto, ti sto dando informazioni e tu non mi stai dando niente in cambio. Trimagasi gli spiega che questa botola scende, che bisogna mangiare, loro partono, se non sbaglio, al 48esimo, ecco mi ricordavo 38esimo, no, al 48esimo livello, che Trimagasi ci dice essere un buon livello, perché il cibo arriva ancora, mentre chi va in fondo in fondo è un po' problematico. Vediamo subito apparire il principio base di questo esperimento, che potrebbe essere l'autogestione, quindi la collaborazione, viene subito mutato in morte tua, vita mia. Infatti le persone tendono a non razionare il cibo, chiaramente finisce per quello, perché se venisse razionato con intelligenza, ce ne sarebbe forse abbastanza per tutti. Quindi non solo c'è un disinteresse nelle condizioni degli altri, disinteresse nella morte, che anzi viene vista come un, quando il mese prossimo ci riscambieranno, forse ci sarà meno gente, insomma magari io sono più sopra, chi se ne frega. Ma vediamo proprio del vilipendio del cibo, dello sprecare volontariamente, perché così quelli di sotto non hanno nulla. Vediamo escrementi lanciati sopra il cibo, sputi e robe del genere, che quindi ci fanno già capire che quelli che sono sotto, gli inferiori, non valgono niente. Quelli che sono sopra sono i superiori, e quindi non ti risponderanno e non vanno contattati. Infatti vediamo molte scene molto originali, diciamo molto particolari, di tentativi di scalata, o di persone che scendono. Infatti Trimagasi dice questo, ci sono tre tipologie di persone, quelli che stanno sopra, quelli che stanno sotto, e quelli che cadono. Infatti all'interno di questa fossa in realtà si può anche scendere, ma perché uno dovrebbe scendere più sta in alto, meglio è a livello alimentare. E sei proprio nella cima della piramide alimentare. È un po' una metafora, e anche molto interessante, molto pessimistico come film. Devo dire che l'ho sentito molto questa critica, sia, se volete, un po' al consumismo, allo sprecare il cibo, al fatto che non diamo importanza alla vita degli altri, ma anche alla mancata collaborazione. In un momento come questo proprio non era il caso di vederlo. È stata una critica molto interessante, è una specie di dead game fondamentalmente, non è un gioco, uno contro uno, o comunque un gioco di sopravvivenza, però effettivamente si tramute in questo, alle sue regole, tu hai un compagno che, alle volte alleato e amico, alle volte diventerà il tuo peggior nemico, o il tuo peggior incubo. E se abbiamo un protagonista naif, ci metterà molto poco a capire come girano le rotelle in questo luogo. E di fatto Trimagasi sarà il supervate, cioè diciamo che è il Virgilio in questa discesa infernale. Che metafora. Perché gli spiegherà sia le regole del gioco, ma riuscirà anche a temprare il suo spirito. D'altra parte si dice che una spada, per essere utile, va temprata nel fuoco e battuta con il martello. Trimagasi farà entrambe le cose, regalandoci delle scene veramente toste. Questo è un film che, se in questo momento avete bisogno di stare lieti e tranquilli, non vi consiglio. Perché è forte. Magari non è una cosa che non avete mai visto, però gioca proprio sull'aspetto di crudeltà dell'essere umano. L'inciviltà, il mancato rispetto, anche il godimento nel dolore altrui, o nella morte dell'altro. Anche l'indifferenza che si può vedere tra le persone, può in questo momento colpirvi molto. Quindi, se non siete tra quelle persone come me, che pensano appunto che ci sia un effetto catartico nel vedere questo genere di cose, o nel provare paura in questo preciso momento, vi consiglio di lasciar perdere. Però, devo dire la verità, questo è un bellissimo film, perché comunque la critica sociale che viene fatta, voglio dire, non va cercata col lanternino, è molto semplice, è lì. La gente si disinteressa. L'evoluzione che fa il protagonista, che passa appunto da essere un personaggio naif, ha un personaggio particolarmente temprato dall'ambiente, che però sta sviluppando i suoi valori etico-morali, e susseguiranno tutta una serie di personaggi, che riusciranno a condurlo avanti, in un modo o nell'altro, all'interno di questo viaggio. Dei sacrifici, ci saranno momenti, anche commoventi se volete, molti dispiaceri, se siete dei proprietari di Bassotto, in modo particolare. Io ne ho tre, quindi potete capire un attimo, perché c'è un Bassotto, si chiama Ramses II, io me lo sono assegnato, mi piace un sacco, e quindi ve lo volevo dire. Quindi assolutamente consigliatissimo, ma scegliete bene il momento in cui vederlo. Ora dobbiamo arrivare allo spoiler, perché ho pochissime cose da aggiungere, ma devo entrare un momento nella trama. Ci sono tante cose che mi hanno colpito all'interno di questo film. È un film che si spiega da solo, che per quanto abbia magari un sottotesto, e una critica anche a livello magari un pochino più interno, è abbastanza arrivabile da chiunque. C'è una critica al consumismo, una critica sociale, ci sono frasi anche che colpiscono e che possono essere estrapolate dal contesto. Io mi sono insegnata un paio di cose, come per esempio fare buon uso della ricchezza, che appunto appartiene a quelle dei piani superiori, a chi sta in cima alla catena alimentare, che non raziona per farla arrivare in fondo. Questa cosa, se non vi ha fatto sentire un minimo colpevoli, soprattutto in un momento come questo, avete un cuore di ghiaccio. Io non ce l'ho, però mi sono sentita in colpa lo stesso, ve lo garantisco, perché effettivamente in un momento dove ci sono stati anche problemi a fare la spesa, come può essere appunto questo della quarantena, l'attenzione alimentare cresce. Io per esempio sto molto più attenta, di prima, è cosa che credo che farò per il resto della vita, a non sprecare cibo, mai, per nessuna motivazione. Se prima ci stavo attenta, però poteva capitare, adesso non lo faccio più. Vedendo questo film, vedete il disinteresse, perché addirittura non è che razionavano magari sperando che arrivasse, perché quello non ci pensavano neanche, però anche il vilipendio del cibo stesso, anche gli escrementi o gli sputi lanciati perché così lo mangeranno quelli di sotto, perché anche quelli di sopra hanno fatto lo stesso. Quindi questa sfiducia generale che corrompeva il sistema, un sistema che era progettato per in realtà mettere l'uno contro l'altro, ma che forse con una collaborazione molto utopistica avrebbe potuto funzionare. Mi chiedo che collaborazione si possa richiedere a individui che sono lì perché hanno ucciso gente o comunque fatto qualcosa di brutto, perché in una condizione estrema la follia prende piede, lo vediamo attraverso quelle che sono probabilmente delle illusioni o comunque dei vaneggiamenti della mente del protagonista che riprende chi? I compagni che sono morti, che non faranno altro che essere l'angelo e il diavolo della situazione. Trimagasi, lo sbaglierò cento volte questo nome, potevamo mica chiamarlo Mario, vabbè, Trimagasi è un personaggio interessante perché è l'emblema della sopravvivenza. L'uomo medio che ha quelle credenze appunto che sono derivate dall'esperienza della vita, una vita difficile, una vita dura, ma anche tutta quella serie di odio, represso e ora manifesto, tutta quella serie di do la colpa agli altri, è colpa del sistema eccetera, che fa parte proprio di quel genere di persona che odia a prescindere. L'odio secondo me è sempre molto radicato nell'ignoranza e Trimagasi mi sembra proprio sì, un personaggio non troppo profondo, non a livello intellettuale, ma molto a livello emotivo. Un personaggio che forse finge di sentirsi in colpa per quello che sta per fare il protagonista, mi riferisco a quando tenta di mangiarlo, però è suo amico, però leggimi un capitolo, però adesso ti devo mangiare. Una cosa terribile, tra l'altro all'interno di questo film riusciamo a vedere personaggi che mutano, ma che mutano come? Alcuni mutano come può essere anche come si chiamava i Mughiri, una cosa del genere, la donna che entra con Ramses II, il bassottino, che rimane se stessa ma in parte muta perché lei voleva entrare nel sistema per aiutare, per far del bene, lei non aveva idea di chi stava immettendo in questo sistema, è andata dall'altra parte e non è riuscita a fare tanto, ma è riuscita a fare abbastanza, perché il suo corpo quando si è uccisa, diciamo così, è riuscito a sfamare il protagonista che altrimenti sarebbe morto, quindi diciamo che lei ha aiutato, ma non nel modo in cui pensava, quindi ci sono delle metamorfosi dovute all'esperienza terribile che si vive all'interno di questo contesto, ma ce ne sono altre che dipendono dalle credenze che hanno le persone, per esempio il fatto che quella donna che scendeva per cercare il figlio in realtà non stesse cercando il figlio, ma era pazza, insomma, metamorfosi di personaggi anche solo a livello di apparenza e le metamorfosi nel sistema avvengono attraverso fondamentalmente la violenza, quando il protagonista dice alla sua compagna di livello che non può defecare verso l'alto, per questo quelli sopra non l'ascolteranno, già in realtà vi sta dicendo una grande verità, ovvero chi è al di sopra della catena alimentare, quelli che sono sotto difficilmente li noterà a meno che non gli facciano danno, mentre quelli che sono sotto ricevendo danni da quelli che sono sopra devono tenerli in maggiore considerazione, una logica molto cinica, molto pessimistica che però si può rivedere nella vita di tutti i giorni, se una persona fa una determinata cosa difficilmente cambierà il suo modo di vedere solo perché gli viene detto guarda che stai recando danno ad altri, soprattutto se è una cosa che ritiene importante in misura anche limitata perché comunque potevano tutti razionare e quindi con la cooperazione essere sicuri che qualsiasi sia il piano in cui essi erano effettivamente potevano mangiare, quindi in realtà andava a vantaggio di tutti, ma ecco altra critica, altro concetto importante, il vantaggio a breve termine è sempre quello che si guarda di più, piuttosto quello che è a lungo termine. Ora, diciamo che ci sono gioie momentanee da cui bisognerebbe fuggire perché sono momentanee ma nel lungo periodo poi possono incasinarci. La gioia dell'ingozzarsi quando si è a livello 2 è molto bella quando sei a livello 200 ci rivediamo quando stai piangendo per la fame. La realtà è che tutti sarebbero stati più sicuri se avessero ragionato su questa cosa ma entrano in ballo così tanti fattori che è difficile riuscire a far ragionare le persone e poi ci sono degli incivili lo vediamo tutti i giorni in questo periodo e lì sono rappresentati molto bene e poi c'è anche quel senso di onnipotenza che hanno quelli che stanno sopra che pur di ingloriare il proprio ego e che hanno necessità di fare questi gesti questi vilipendi verso gli altri proprio per ricordarsi dove sono delle persone a mio parere piccole che vi ripeto hanno infiniti fattori che influenzano il loro comportamento ma che di base probabilmente sono persone estremamente tristi non voglio dire inutili perché mi dispiace un po' dire di una persona che è inutile però persone che vivono per disprezzare gli altri e per far sentire gli altri piccoli sono persone fondamentalmente minuscole perché una persona grande non ha bisogno di far sentire gli altri piccoli vabbè ste perle quindi vi dicevo abbiamo il protagonista con il suo angelo e il suo diavolo sulla spalla o per meglio dire nella testa abbiamo un compagno di viaggio che lo accompagnerà cercando di razionare cercando di portare il messaggio e c'è il sacrificio finale proprio del protagonista che lascerà andare la bambina nonostante lui e rimarra lì un film veramente forte secondo me molto cinico sarà che in questo momento forse a tematiche anche alimentari o anche di cooperazione siamo molto sensibili è stato veramente tosto a me è piaciuto molto per quanto crudo per quanto cruento soprattutto a livello intellettivo non solo a livello visivo magari sangue o gente che si uccideva ma proprio a livello intellettivo perché fa fare dei ragionamenti anche ovviamente in una situazione meno pericolosa ma comunque pericolosa come quella che stiamo vivendo e quindi parallelismi non lo so a me mi hanno lasciato un po' alla fine del film però sono passate 3-4 ore adesso va già un po' meglio credo che sia riuscito non è il più bello del mondo non ha una realizzazione visiva incredibile però secondo me è molto convincente è molto bello e lascia un po' le cose in sospeso ma dà comunque un grande messaggio io sono molto contenta di averlo visto lo condivido con voi e voglio sapere assolutamente se l'avete visto cosa ne avete pensato e soprattutto quale di quelle che sono le motivazioni del film quali sono diciamo i messaggi che vi hanno colpito di più della fossa buco si chiama il buco buco? dov'è buco? il video è finito andate in pace ma prima di andare lasciate like se il video vi è piaciuto commentate facendovi sapere la vostra opinione condividetelo per farlo arrivare a più persone possibili espandiamo la community intanto che siamo fermi cresciamo così tanto per fare qualcosa e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti c'è una campanellina suonatela che non succede niente di male anzi si prova a farvi arrivare le notifiche che non sempre da quanto ho visto arrivano proviamoci vi ricordo che tutti i miei social sono in descrizione quindi avrete instagram il-bifrost è quello del canale mentre Giulia R è ufficiale page è il mio personale dove recensisco libri e mi raccomando c'è il mio canale secondario Giulia R dove faccio uscire una volta a settimana un video legato a libri letture scrittura quindi andate a darci un'occhiata poi c'è telegram facebook c'è tutto date un'occhiata in descrizione e stalkerizzatemi ho finito di charlare ci vediamo al prossimo video bye gente grazie a tutti